Il governo Collura ha incontrato tutti i soci del distretto Lions Sicilia presso un noto albergo di Palermo per il tradizionale incontro programmatico con la firma di diversi protocolli d'intesa sociale. Nel segno del We Serve, una platea numerosa ha salutato ed applaudito la sfida del nuovo lionismo lanciato durante l'incontro d'autunno da Collura. Dobbiamo vivere dentro le nostre comunità, convinti che possiamo fare e non rimanere a guardare. C'è un grande entusiasmo intorno a noi. Questa è la scommessa vincente che è stata scritta nella riunione palermitana. La sfilata delle bandiere e gli indirizzi di saluto delle autorità lionistiche civili e militari ha fatto d'apertura al meeting. Partecipato nell'auditorium dai saluti del primo vice governatore, l'avvocato Mariella Sciammetta, è dal benvenuto del governatore del distretto 108 Iupsion B, dottore Angelo Collura. Collura, nel suo discorso iniziale, ha descritto le numerose attività siciliane nei suoi primi mesi di servizio, lo stato di salute dell'associazione, presentando la nascita dei nuovi club Lions nel distretto e la ripresa editoriale, cartacea e molto desiderata, della rivista Lions. Due importanti protocolli d'intesa sono stati firmati dopo la cerimonia di apertura. Il dottore Salvo Damanti, socio del Lions Club Ragusa Host, ha presentato al numeroso pubblico il protocollo d'intesa sullo screening del tumore, del colon e del collo dell'utero, firmato dalla dottoressa Maria Letizia Di Liberti, dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidologico della regione siciliana e il governatore Collura. La professoressa Lucrezia Lorenzini, responsabile dell'area ambiente e socia del Lions Club Messina Colapesce e l'architetto Andrea Donzì del Lions Club Santa Teresa di Riva, hanno illustrato l'accordo protocollare per la formazione della consulta regionale permanente sull'ambiente, finalizzata l'elaborazione di proposte condivise sulle tematiche ambientali regionali. La firma del protocollo è stata tra l'assessore regionale dell'ambiente e all'energia, dottore Alberto Piero Bonne, e il governatore del distretto. Due sessioni tematiche importanti hanno dato lustro alla giornata Lions. In mattinata, per l'area sanità multitematica, il dottore Enzo Stroscio, responsabile comunicazione televisiva distretto Lions Sicilia e socio del Lions Club Catania Faro Biscari, ha coordinato l'incontro Associazionismo Stili di Vita e Salute, che ha visto nel talk show il dottore Giuseppe Canzone, coordinatore degli screening sanitari del distretto Lions Sicilia. Il dottore Giuseppe Canzone ha relazionato su il ruolo dei Lions nella promozione degli stili di vita e nella prevenzione delle malattie. Il dottore Francesco Leonardi, componente di tavoli tecnici dell'assessorato Sanità della Regione Sicilia, del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero della Salute, che ha trattato sull'alimentazione e salute, la dieta mediterranea, patrimonio immateriale dell'umanità. Il dottore Salvatore Scondotto, del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Regione, che ha intrattenuto gli ospiti sull'impatto delle malattie croniche e stili di vita in Sicilia. Le conclusioni dell'area Sanità sono state affidate al dottore Domenico Messina, direttore internazionale 2010-2011 e rappresentante del Lions Club International presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Molto sentito ed incisivo è stato l'intervento applaudito del Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Giancarlo Cancelleri, sulla Sicilia da oggetto a soggetto di sviluppo. Il politico siciliano ha ribadito come il 2020 sarà un anno di grandi soddisfazioni nel risolvere i tanti problemi infrastrutturali che perdurano da anni e che attanagliano l'economia della Sicilia. Alla ripresa dei lavori pomeridiani si è parlato di fondazione tra mito e realtà. La moderatrice Viviana Sidoti, avvocato e coordinatore del Comitato Costituzione della Fondazione del distretto Lions 108 YB Sicilia, si è intrattenuta sul tema con i past governatori. Gli avvocati Gianandrea Chiavegatti, veronese, già coordinatore del gruppo di lavoro giuridico fiscale del multidistretto e Gianfranco Amenta del distretto Sicilia. Con i governatori del multidistretto Antonio Cons, Filippo Manelli, Sergio Martina, Maria Giovanna Gibertoni e con il presidente del Consiglio dei governatori Luigi Tarricone. La riforma del terzo settore interessa in misura molto significativa anche le associazioni di servizio e dunque l'importanza dei Lions. Lo strumento della Fondazione Siciliana potrebbe essere impiegato per far fronte alle nuove normative e coordinare le azioni dei club dell'isola per il raggiungimento di obiettivi comuni. Alla fine, le soddisfatte conclusioni della giornata lionistica da parte del governatore del distretto 108 YB, Angelo Collura. Vogliamo metterci al servizio delle nostre comunità, senza clamori, ma sicuri di incidere. Ha detto, è l'impegno che ci sentiamo di prendere per costruire una Sicilia diversa, per non perdere mai la voglia di sognare e per testimoniare che i nostri sogni si stanno avverando a piccoli ma decisivi passi.